Eccoci, buona domenica a tutti ragazzi, ben ritrovati Sono uscito da poco dallo stadio, quindi post partita abbastanza fresco questo qui Allora ragazzi, Empoli 0, Sampdoria 3, andiamo a perdere questa partita contro la Sampdoria in casa, quarta giornata Ragazzi, io che vi devo raccontare, brutta brutta prestazione da parte insomma delle Empoli Bruttissima, forse anche peggio di quella con il Venezia, era difficile fare peggio Una squadra che oggi ragazzi mi sembra scarica e priva di idee, ragazzi scarica di gambe Con poche idee, insomma confusa sia in fase, in fase, in fase offensiva Abbiamo veramente costruito poco, sempre secondi sulle seconde palle Avevano sempre prima loro, ragazzi l'approccio, abbiamo fatto bene il primo quarto d'ora Dopodiché ragazzi loro secondo me non è che ci avevano creato neanche grandissimi problemi Hanno semplicemente insomma amministrato, amministrato insomma la partita Sì, si sono resi sicuramente più pericolosi di noi, ma insomma niente di eccezionale Ragazzi, vantaggio insomma con Caputo ragazzi, ciccio Caputo, gol dell'ex Poi secondo tempo ragazzi appunto io pensavo che la squadra insomma cambiasse, cambiasse approccio E ragazzi la ripresa se non vuoi si è approcciata ancora peggio del primo tempo E poi ragazzi ancora ciccio Caputo, le grand'ex ci fa doppietta E poi ragazzi chiude il 3-0 con Candreva, un tiro a giro dove appunto Vicario non può farci niente 3-0 poi ragazzi da lì la partita vuoi anche un po' insomma per il campo appunto pesante Pioveva, l'Empoli non aveva più praticamente niente da chiedere Perché insomma sul 3-0 ragazzi ci si è provato ma insomma Si è provato insomma qualche conclusione sempre, sempre ribattuta Loro insomma dietro si sono sempre chiusi bene ragazzi Ma anche secondo tempo insomma non si è praticamente mai calciato in porta Cioè si vuol sempre arrivare in porta con il pallone Ogni tanto devi anche tirare insomma Zurkowski è entrato, ci ha provato Bandinelli, un po' di sostanza l'ha data Ma ragazzi la prestazione insomma in linea generale è stata brutta Brutta davvero Ragazzi squadra priva appunto come ho detto di idee, di gioco dopo le prime due giornate Io vi ho detto insomma si era giocato bene Però ragazzi queste due prestazioni di fila fanno suonare qualche campanella d'allarme Anzi qualche campana d'allarme Perché ragazzi l'approccio così non si va da nessuna parte Ragazzi la Serie A è così Cioè te puoi anche fare delle buone prestazioni E poi ragazzi ogni partita devi sempre ripartire da zero E noi insomma ci siamo, non lo so, appoggiati un po' sulla partita vinta contro la Juventus Però ragazzi qui c'è da capire le motivazioni e come mai questa squadra sta calando a picco In queste due ultime partite Il perché insomma di certi errori, di certi atteggiamenti Insomma una squadra che prima le due partite costruiva gioco Adesso ragazzi c'è fa difficoltà Insomma c'è difficoltà a costruire gioco E c'è da capire il perché Il perché Ragazzi qui non è un problema tanto insomma di punti Se è alla quarta giornata Insomma i punti vanno e vengono tra virgolette Qui ragazzi a me quello che mi preme è la prestazione E le prestazioni ragazzi sono Le ultime due sono state terribili Come prestazioni Oggi veramente ragazzi non ci ha neanche provato Loro insomma hanno portato a casa questa partita tranquillamente Poi ragazzi la qualità della Sampdoria c'è Insomma l'Inter l'aveva messa comunque in difficoltà E ragazzi hanno appunto dei giganti dietro Insomma al centrocampo Poi ragazzi davanti insomma Quagliarella che oggi non si era neanche visto troppo Poi ragazzi Ciccio Caputo Insomma si conosce bene Ha toccato tre pallone Ha fatto due gol Anche qui ragazzi come singoli male Perché insomma il primo gol Sembra si è sbagliato In uscita A questo passaggio appunto con Caputo Che si è trovata tu per tu con Vicara Poi ragazzi i secondi gol I secondi gol che si è preso Lì sono merito E più ragazzi ci siamo mossi male Anche di squadra Quello il problema maggiore ragazzi Che puoi fare degli errori sui singoli Ma poi insomma magari Superato il momento dell'errore Magari poi vai a giocarti la partita bene Oggi si è proprio ragazzi sbagliato Nei movimenti degli undici E poi sempre secondi Cioè Se siamo arrivati sempre secondi Sui palloni E quando arrivi sempre secondi E' difficile che poi insomma Vinci le partite o le porti a casa Ragazzi I cambi Zurkowski Bandinelli Qualche cosina hanno fatto Ma niente D'eccezionale lì davanti ragazzi Insomma Mancuso Ha avuto Una bella Una bella occasione all'inizio Poi poco servito Cutrone Tanto movimento Poca roba Poi ragazzi appunto Pina Monte di Francesco Anche loro hanno fatto Pochissimo ragazzi Qui c'è da Da darsi una Una sveglia Una sveglia perché ragazzi Già Già mercoledì si va contro il Cagliari Fuori casa E altra partita Insomma che Dire dura E dire poco Ragazzi E poi arriverà domenica prossima In Bologna Sì che tre partite In Praticamente In In una settimana E vi avrete appunto che Ma aspettavo sette punti In quattro partite Adesso ne abbiamo fatti Zero in due Ragazzi Bisogna Insomma lavorare Testa bassa Lavorare Ovviamente Non fare drammi Perché siamo solo all'inizio Però ragazzi Capire Cioè capire Il perché Insomma di determinati Errori E metterci una Pezza Fin da subito Voi ragazzi Niente Non ho nient'altro da dire Voi ragazzi Come sempre Iscrivetevi Attivate Le Notifiche Like Al video Commentate sotto Se volete Che parliamo Tutti insieme E ragazzi Noi ci vediamo Alla prossima Nel Pre partita Con il Cagliere E poi sicuramente In una live In settimana Ragazzi Probabilmente Martedì sera E oggi Più che mai Noi non molliamo Forza Empoli Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti